Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene nel vostro cuore. Buongiorno per tutto il giorno. Oggi, mercoledì della seconda settimana di Avento, meditiamo il Vangelo di Matteo, capitolo 11, versetti 28 a 30. Ascoltiamo. In quel tempo Gesù disse, venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio gioco sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio gioco, infatti, è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore. Carissimi, abbiamo sentito l'invito di Gesù ad andare verso di Lui, a prendere il suo gioco che è suave e leggero per il ristoro della nostra vita. Ecco perché noi siamo stanchi e oppressi. Siamo stanchi e oppressi dalla situazione attuale del Covid, la situazione economica, la situazione sociale, familiare. Allora, queste situazioni ti pesano. Allora, non sappiamo dove sbattere la testa. Ma Gesù oggi viene per dirci, andiamo verso di Lui, prendiamo il suo gioco. Il gioco è il simbolo dell'insenamento, perché nei tempi antichi l'insenamento era chiamato un gioco. Quando la legge diventa pesante, si parla di un gioco pesante. E perciò, per esempio, i farisei, gli scribi, imponevano la legge alla gente. Soprattutto il decalogo, i dieci comandamenti, era difficile ad applicare. Allora, per il popolo era come un peso insopportabile. Lo dirà anche San Pietro negli Atti degli Apostoli, nel capitolo 15. Un peso insopportabile. Allora, Gesù viene con un peso leggero, un gioco leggero, il suo insenamento. Allora, lui dice, prendiamo il suo insenamento, impariamo da lui che è mite e umile di cuore. Allora, noi avremo ristoro per le nostre anime. Sicuramente qualcuno mi direbbe, ma padre, come un insenamento mi può aiutare in questa situazione? Io ho bisogno dei soldi, ho bisogno delle cose materiali, concreti per vivere. Infatti, avete ragione sicuramente, ma non dimenticate che Gesù diceva l'uomo non si nutre soltanto del pane, ma anche della parola che esce dalla bocca di Dio. Vuol dire che la parola di Dio che Gesù ci propone ti dà forza per affrontare ogni situazione, perché è luce sul nostro cammino. La parola di Dio ti dà la speranza, ti aiuta di non cadere nello scoraggiamento, nella pigrizia, nella disperazione, ma di avere le forze per affrontare ogni situazione. Allora, carissimi, prendiamo questa parola, ci aiuterà. Vi auguro una buona e santa giornata.